I campioni dello sport a confronto con i ragazzi comaschi. Bagno di folla, ieri sera nell'auditorium ETV Corriere di Como per l'evento organizzato dal Comune di Como nell'ambito della settimana dell'infanzia e dell'adolescenza. Oltre un centinaio di studenti hanno ascoltato le esperienze sportive di Patrick Cutrone, attaccante del Milan e giovane promessa del momento, con due gol nell'ultima partita di Europa League, del campione paralimpico Roberto Barna, del velista Roberto Spata, del pugile su Atlaze dell'ultra-maratoneta Michele Evangelisti, dell'ex azzurra di canottaggio Sara Bertolasi e di Viviana Ballabio, storico capitano della commenza di basket. Per tutti entusiasmo alle stelle, applausi, selfie e autografi, in particolare ovviamente per il personaggio del momento, Cutrone, reduce, come detto, da una doppietta in Europa League contro l'Austria-Viena. Il messaggio arrivato da tutti gli sportivi è stato univoco, credere nelle proprie passioni e lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi, la capabilità e la dedizione come chiavi di realizzazione nello sport.